Pro di Sport, riferimento per la città soprattutto nel merchandising e nella vendita dei prodotti della Victoria Libertas Scarpetta Prosciutto Basket Pesaro, quest'oggi presentazione ufficiale della maglietta che accompagnerà la Victoria Libertas nel suo cammino di precampionato fino all'inizio della nuova stagione. Dietro di me potete vedere le maglie che sono state disegnate dai grafici di Pesaro per la RA Sport in cui vengono riprese le location più importanti della nostra città, sia nel colore giallo che è quello fedele nel pantone della Carpegna Prosciutto sia nel colore tradizionale bianco. Camara è il pivot che la Victoria Libertas ha contrattualizzato quest'anno e qui in versione di modello, top model quest'oggi per la presentazione della maglia ufficiale precampionato. Ti piace questa maglia? Sì, 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 mi piace tanto perché praticamente ripresenta la città e poi è una cosa piacevole a indossare questa maglia e andare in campo, quindi mi piace molto. I tifosi chiaramente aspettano da te grandissimi risultati. In questi giorni di preparazione prima Carpegna e Borgo Pace come sono andate le cose, il rapporto con i compagni e col nuovo coach? Non ho avuto tanta difficoltà a avere rapporti con i miei compagni di squadra e anche con il coach perché appena arrivato mi hanno aperto tutte le porte, mi hanno fatto capire da subito come va, come infiltrarmi nel gruppo. Poi non è stato tanto difficile per me andare in avanti con loro e a giocare contro Ferrara l'ultimo partito. Quindi bene, bene. Ben arrivato, ben trovato, dopo i problemini che hai avuto sei subito uomo immagine. Grazie, sto bene, sono felice di essere qua e questa è una grande parola, però vi ringrazio per il caloroso benvenuto e sono veramente contento di essere qua. Senti, la tifoseria l'anno scorso non è stata presente alla Vitri Frigo, ma la conosci bene, sai quali saranno le aspettative che ti attendono? Sì, no, assolutamente so bene che tipo di tifosi ci sono da queste parti e spero di poterli vedere al palazzetto il più numerosi possibile. Nella maglia precampionato, che tra l'altro se vuoi fare vedere ed esibire davanti alle telecamere, visto che stai facendo il modello oggi, ci sono varie location molto importanti di Pesaro, hai già avuto modo di visitare la città, a te è piaciuta? Sì, no, io comunque a Pesaro sono venuto con la Nazionale, ho fatto la prima edizione del mio camp, quindi comunque la conosco molto molto bene, oltre al fatto che ci ho giocato veramente tantissime volte con le giovanili e con le squadre di Serie A. Quindi è una città che mi piace molto per il mare, per proprio tutti questi riferimenti che ci sono anche sulle maglie, quindi sono contento di essere qua e sono sicuro che mi ritroverò bene anche con la città. Hai già avuto modo di interagire con i compagni? Sì, 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 no, sono stato a Borgo Pace gli ultimi due o tre giorni e sono dei ragazzi super, mi sono trovato bene, quindi è un buon punto di partenza e speriamo di amalgamarci, di star sempre meglio insieme per arrivare all'inizio della stagione il più pronti possibile.